Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Una ricostruzione immobile e una politica fatta solo di annunci è quanto sottolinea la coordinatrice cittadina della Rega, Rianna Fasulo. La ricostruzione pubblica a Teramo, secondo la coordinatrice, è ferma. Oltre alle scuole, ancora bloccato anche il palazzo della città, luoghi che garantirebbero anche un rilancio cittadino. La ricostruzione pubblica a Teramo è una nota molto dolente per quanto riguarda noi della Lega. Io direi non solo lenta, ma completamente un sistema immobilizzato sotto tutti i punti di vista. L'ultima amministrazione di centrodestra è quella che si era già premunita ai fondi che sarebbero stati già intercettati da loro e che dovevano essere semplicemente utilizzati per quanto riguarda la ricostruzione. Ed è sotto gli occhi di tutti che se passeggiamo per la città di Teramo non troviamo una gru che sopra le nostre teste. Adesso leggiamo, per via di una politica di annunci, data forse anche dal momento della campagna elettorale, che un'impresa ultimamente è stata scelta per quanto riguarda la ricostruzione di Palazzo Pompetti. È emblematico il caso della Casa Comunale. Casa Comunale è chiusa oramai da cinque anni, fondi intercettati, cantiere non partito. Stessa identica cosa per quanto riguarda le scuole. La Savini, per quello che mi risulta, è completamente ferma tutta la procedura. Per quanto riguarda la scuola San Giorgio e la scuola dei Jacobis è stato iniziato solamente il processo sismico e per quanto riguarda l'opera di ristrutturazione è completamente ferma. Idem per quanto riguarda il museo archeologico. Stessa identica situazione della Casa Comunale. Quindi voglio dire, inoltre mi viene anche da invitare ad una riflessione. Anche per quanto riguarda la ricostruzione edilizia pubblica, e qui faccio un riferimento specifico all'Ater, in questi cinque anni ha avviato quasi il 99% dei cantieri. Come mai questa differenza?